Ok, allora io comincierei da Bambi dei Bambini e poi magari andiamo alla... Allora, Forino, un paese che rinasce, autori locali, 11 ottobre 2014, il presente attestato di riconoscenza viene conferito a Giacinta, a Cierno, all'impegno profuso, autore di Nerva. Non c'è, non c'è, l'autore di la professoressa. Allora, io intanto mi chiamo tutti, professoressa, come se fosse una pelle. Ok, Filomena Barone. Facciamo un applauso per questa di Bambini, Bambini, Bambini. Allora, vuoi salutare tutti? Ciao. Facciamo un applauso per la voi. Ecco, ciao. Ehi, prendi, prendi l'attestato, all'impegno profuso, autore di Nerva, bravissima. Facciamone ancora un applauso. Questa è la generazione di tutti, non si può venire. Ecco, anche il presidente del Consiglio, Gina De Angelis. Ciao, Gina, benvenuta. Magari passiamo le pergavele. Chiamo I Rene Biondi. Non c'è. Allora, vai amore, dai, dai. Lo so, vada, 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 è un amore. Ok, I Rene Biondi lo consegniamo dopo. Alessandro Casetta. Non c'è. Non c'è, va benissimo. Luigi De Lauro. Non c'è. Non c'è, ok. Ilania De Maio. Non c'è. Non c'è, va bene. Ma ci sarà qualcuno? Ma dove si fa venire? C'è. Gerardo Del Gaudio. Eccolo qua, Gerardo Del Gaudio. Gerardo, per te è un attestato. Ecco qua il sindaco ti consegna l'attestato. Bravo, amore. Bravissima. Ecco, facciamo anche la foto. Benissimo. Marisa Di Scepolo. Ecco la brava Marisa. Marisa Di Scepolo è il presidente del Consiglio Comunale di Daniel Angelis. Foto anche per Marisa. Cheese, sorriso. Ok. Va bene, c'è filmato, c'è foto, c'è tutto. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Si è bloccato. Va bene, la rifariamo. Non ci preoccupate. C'è la signora che le sta facendo. Allora, Denise Fioripino. Non c'è. Va bene, lo insegniamo tutto dopo. Sofia Montanella. Eccolo qua, Sofia. Eccolo qua. Bellissima. Amore. La sessore della cultura vice-simmago a Maricardi. Ecco qua. Posto? Ci siamo. Luigi Leo Dalietta. Eccolo qua, Luigi. Passerella, anche per Luigi. Eccolo qua. Ascolti. Il sindaco Pasquale Luziata conserva l'attestato. Complimenti a questi autori netta. Bravissimi. Giuseppe Ciriberti. Ecco qua, Giuseppe. Contegna Gina De Angelis. Ecco qua. Bene. Grazie, amore. Viore Eugenia Granese. Eccola qua, la figlia di Mariole. Benissima. Bene, sei carina. Ecco qua. Consegna la sessore della cultura. Foto di bordo. Eccoci qua. Che meraviglia. E il nostro appunto. Simone Perna. No, c'è. Ok. Ci stiamo da parte. Simone Perna. Nicola Raimo. E' andato che è stato. Va bene, ma davvero. E' stato. E' stato. Luca Spagnolo. Grazie. Bravo Luca. E' stato. Luca Spagnolo. Complimenti. Ma sono proprio. Sei soldatini questi bambini. Sono testo. Sono testo. E' stato. E' stato. E' stato. Melita Smedite. Non c'è. Melita Smedite. E' stato. 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 La professoressa Vicenza. E' stato. Per me. Grazie. Poco ricordo. Eccoci qua. Grazie.